Sai che in Puglia ti porta a conoscenza della mostra temporanea d'Erbicano e ricordare il tradizionale corredo che si realizzava in passato Buona visione! Bentornati a Sai che in Puglia Oggi siamo a Castellanagrotte in Via Bovio in una mostra temporanea di corredi castellanesi L'arte del ricamo Insieme a me, dottoressa Daniela Poncini insegnante in pensione e sarà anche la nostra guida oggi con Daniela abbiamo già fatto un video sui ricami corredi di un tempo nella mostra al TV Daniela non è originaria di Castellanagrotte però è particolarmente legata a questo paese perché sua suocera era castellanese e Daniela ha pubblicato anche in suo ricordo un libro sui ricami E' vero Daniela? E' vero Daniela? Certo! E oggi finalmente forse si è realizzato un piccolo sogno perché questa mostra temporanea per ora però in futuro potrebbe diventare? Beh, il desiderio sarebbe quello di dare prosecuzione a queste mostre con un, perché no, l'istituzione, l'organizzazione di un piccolo museo che possa ricordare l'enorme lavoro che le donne castellanesi da sempre hanno fatto era infatti tradizione come era capitato per la nonna Lucrezia di cui dicevamo nel libro che le bimbe all'età di 10-11 anni nell'estate andassero dalle ricamatrici, perché no, dalle sarte ad imparare questo mestiere e non fosse altro per fare il corredo di casa per rendersi utile alla famiglia e di conseguenza così abbiamo imparato che è accaduto per tantissime donne castellanesi che poi si sono impegnate qualcuno per il lavoro domestico da fare per la famiglia qualcun altro invece continuando nel pomeriggio, magari dopo i lavori della campagna oppure rimanendo a casa, a ricamare ma ricami veramente impegnativi come lo dimostrano questi capolavori che sono qui rappresentati che ci sono stati gentilmente offerti dalle signore per un mese e desiderio delle stesse signore quando sono venute a visitarci a Picella di mettere in mostra il loro lavoro e così è nata l'idea di questa presentazione di questi corredi magari anche recenti, perché molte sono state anche le signore che ci hanno portato i corredi dell'età del 50-60, quindi persone della mia età come invece anche quelli delle loro mamme, delle loro nonne perché qui ci sono dei capi che sicuramente sono datati 1800 e quindi proprio dei capolavori perché in quel momento forse non si usavano neanche queste cose dopo averle fatte con tanta cura e quindi sono state anche conservate molto molto bene Daniela, ma tutto questo stai realizzando da sola? certo che no allora sicuramente la nostra idea, quella del libro dedicato alla nonna è venuta a mio marito, a me e io amo in particolare il ricamo e quindi quella è stata l'occasione di partenza poi il discorso delle mostre è nato dall'idea di Federico Simone presidente del circolo culturale Pivò il quale ci ha ospitato nel palazzo Picella e lì è stata una mostra tra l'altro dedicata proprio anche ai saloni alla bellezza del palazzo, quindi il ricamo era messo in risalto in un'ambientazione eccezionale poi il numero dei capi, in questo caso sulla sollecitazione delle cittadine di Castellana delle amiche che avevano visto quella mostra ci è nata di farla via Bovio perché comunque è un punto di passaggio e quindi pensavamo che più castellanesi potevano godere di questa vista sono aiutata da tutte queste persone che hanno offerto di mettere in mostra le loro cose che vengono tutti i giorni mi hanno aiutato a allestire la mostra e puntiamo perché anche l'idea successiva di creare un posto dove mettere permanentemente queste cose è naturalmente coadiuvata, appoggiata, sostenuta oltre che da mio marito che è un fervente amante del paese di Castellana da tante persone e soprattutto noi intendiamo dalle associazioni culturali di Castellana che sono moltissime e che sicuramente avranno un ruolo perché se l'arte del ricamo è una cosa da valutare assolutamente da non dimenticare proprio così come può essere stata la pittura o qualsiasi altra arte è giusto che in un paese come quello di Castellana dove gli spunti culturali sono moltissimi tutti vengono messi alla luce e quindi l'intento soprattutto di mio marito che è fautore di questa cosa che nei giorni prossimi organizzerà una tavola rotonda proprio per mettere a confronto oltre che l'amministrazione comunale che è assolutamente importante in un progetto che riguarda così il paese ma assolutamente tutte le associazioni tutte le persone che possano sia dal punto di vista giuridico oltre che logistico, amministrativo dare la loro idea, il loro input affinché la cosa prenda piede sia organizzata nel migliore dei modi diciamo pure che assolutamente non è l'idea di una persona ma è l'empatia e l'avvicinarsi a questo progetto di tante persone che darà risalto e potrà eventualmente, speriamo presto dare vita a qualcosa di diverso tra l'altro bisogna dire che moltissime delle persone che sono entrate e anche di una giovani non dico giovanissime perché forse sui giovanissimi c'è qualche diffidenza ad entrare a guardare ma anche tra le persone giovani come tra le persone della nostra età della mia età sono entrate molte persone chiedendo ma non c'è scuola di ricamo? ecco, questo potrebbe essere un passaggio intermedio anche prima di arrivare al museo perché questa esigenza di tenere l'ago in mano e di comunicare anche nei modi più semplici perché non possiamo certo pensare di fruire di ricami di questo tipo nel mondo di oggi quelle passate sono opere da ammirare ma per il prossimo avvenire sicuramente ci possono essere persone che avvicinate a quest'arte prendono passione anche ai punti più semplici e allora una delle mete che ci siamo posti chiacchierando con i castellanesi è proprio quella di offrire un luogo la possibilità di una scuola di ricamo per quanto semplice per quanto puntata sulle cose più fattibili alla nostra epoca ma quella che ci sia una scuola di ricamo che dia un avvicinamento a quest'arte Daniela è fantastico io sono orgogliosa di castellanesi nonostante tutte e due noi non siamo castellanesi grazie mille Daniela e noi di Saichè in Puglia giustamente auguriamo di cuore che questa idea può trovare miglior soluzione grazie a voi grazie a voi della vostra partecipazione ci fate questo onore di mettere e di far conoscere queste cose perché questo è il nostro obiettivo considerare l'arte del ricamo un'arte importante farla conoscere e divulgarla il più possibile tirare fuori dai cassetti tutto ciò che teniamo nascosto e sai che può interessare o coinvolgere anche te adesso lo sai grazie a tutti